e voilà una due tre pancetta facciamola rosolare e voilà pancetta bella 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 chioccando e alle 22 e una e due si buona che ci mettiamo la la scamozza e ci mettiamo un bello hamburger ci mettiamo l'andicchia e questo qua poi ci mettiamo un pochettino di questo qua e poi ci mettiamo ancora un poco di scamozza ok andiamo a chiudere e voilà un po' le patate pinine le patate le patate a un po' i che stessi las comiamo è una due trea del 123 del nazionale ragazzi buona serata